Chi vive la condizione di privazione della libertà, pur titolare di diritti, ha dei forti limiti ad esercitarli. La convenzione tra i notai dei distretti riuniti di Trapani in Marsala e la direzione del carcere Pietro Cerulli di Trapani muove in direzione del superamento di questi limiti. I notai, periodicamente, terranno nelle carceri conferenze, incontri ed altro, percorsi informativi e conoscitivi su tematiche socio-giuridiche di interesse generale, nonché l'erogazione, in relazione a specifiche istanze formulate dai detenuti, di un servizio gratuito di consulenza notarile. Le persone detenute non sono impedite, però hanno delle limitazioni a causa della loro condizione. Quindi io ringrazio moltissimo il Consiglio notarile, nella persona del suo Presidente Massimo Petalia, per la disponibilità. Si tratta, come dire, di un gesto molto forte e importante che sicuramente sarà apprezzato. Presidente, materialmente come si svolgerà il vostro servizio di consulenza? Guardi, io le dico che quando abbiamo ricevuto questo invito da parte del Direttore Prestopino, mi riferisco alla sua sensibilità per veramente dare un merito a questa iniziativa. Siamo stati estremamente contenti come Consiglio, ma per tre ordini di ragioni. In primo luogo perché il notariato di per sé è proprio per vocazione un'istituzione deputata per stare a fianco agli soggetti più deboli, alle persone che hanno bisogno di un'assistenza per evitare le asimmetrie informative, le sperequazioni. In secondo luogo perché il carcere è spesso considerato proprio un non luogo nella società, un posto di cui talvolta è meglio quasi non parlare, per intenderci un po' come i vecchi manicomi antebasaglia. Per cui invece, se come è stato detto, è vero che la civiltà di un popolo si misura soprattutto e anche dalla capacità di tutelare gli interessi dei suoi detenuti, allora è importante che si mettano costori in condizione di poter veramente interagire su un piano di parità. In terzo luogo poi anche perché la Costituzione per prima ci dice che la pena deve avere una funzione rieducativa e quindi io non so se altri ordini professionali hanno già iniziato o avviato iniziative simili, però sarebbe bene e noi auspichiamo magari che dietro questo spunto che ci è stato dato da questa Convenzione altri organi professionali, altri ordini vogliano realizzare qualcosa del genere per farlo assieme. Questa premessa perché? Perché vorremmo noi, se riusciamo, creare degli incontri in modo da, come dice la Convenzione, formare e informare i detenuti per quelli che sono i loro diritti, le loro possibilità e quindi, ripeto, metterli su un piano di piena perequazione con il cittadino libero. Come avverrà? Sicuramente tramite intanto incontri che saranno ospitati ovviamente presso le strutture carcerarie dove parteciperanno, io mi impegno in prima persona ma sicuramente anche i nostri collegiati saranno disponibili e poi anche con un'attività di consulenza specifica qualora ci fossero, soprattutto per coloro che si trovassero in condizioni più disagiate dal punto di vista economico, una consulenza magari anche su casi singoli, specifici per poter proprio superare nell'urgenza, nell'immediatezza i loro problemi. Questo è il nostro intendimento.